La città di Sciacca avrà nel 2021 il suo nuovo impianto di videosorveglianza con l'installazione di altre 20 telecamere in punti strategici del territorio. Oggi per l'apertura del cantiere sono stati consegnati lavori alla ditta, alla team che si è giudicata l'appalto tramite piattaforma Consip. Un obiettivo raggiunto, dichiara il sindaco Francesca Valenti, il nuovo impianto allo scopo di migliorare la sicurezza urbana. Le nuove 20 telecamere fisse si andranno ad aggiungere alle altre 5 esistenti con un'unica centrale operativa posta al comando della Polizia Municipale che ha anche in dotazione altre due telecamere mobili con un sistema a parte. Il nuovo impianto potrà essere integrato nei prossimi anni con altre telecamere fino ad un massimo di 120. Se non ci saranno imprevisti si prevede che entrino in funzione tra febbraio e marzo del 2021. Le telecamere verranno collocate in centro agli ingressi della città e in aree periferiche. Per l'acquisto del nuovo sistema di videosorveglianza, telecamere, ripetitori, ponte radio, centrale operativa, il Comune di Sciacca ha contratto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 99 mila euro. L'appalto è stato giudicato per circa 94 mila euro dalla Polizia Municipale che si è occupata di tutto l'iter progettuale e amministrativo. Ci sono telecamere di ultima generazione, quattro con capacità di leggere le targhe delle auto che saranno utilizzate agli ingressi della città, una con capacità di identificazione facciale delle persone, le altre sono da contesto. L'obiettivo non è solo quello, pur di fondamentale importanza della sicurezza. Il sistema di videosorveglianza consentirà di arginare anche il fenomeno del vandalismo e tutti quegli atteggiamenti poco rispettosi dell'ambiente, a cominciare dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che non riguarda solo le periferie, costantemente trasformate in discariche, ma anche il centro abitato.